salve a tutti eccomi qua con un'altra piccola guida che mi è stata richiesta da una ragazza del mio gruppo è come salvare in pdf un file della silhouette cameo è semplicissimo ora vi spiego come prima di tutto apriamo un file che io avevo creato per tagliare con la silhouette ed è questa civetta ora non dobbiamo fare altro che andare sull'icona della nostra stampante clicchiamo e apre questa finestra tra le voci troviamo questa dobbiamo cliccare dobbiamo evidenziare questa clicchiamo e facciamo stampa e mi si apre la finestra dove salvare il mio documento in pdf vedete io lo do civetta faccio salva mi sta salvando ora se vado nella mia cartella creazioni apro vedete civetta è un documento in pdf apro ed ecco qua convertita in pdf semplicissimo io spero di essere stata d'aiuto alla ragazza che me l'ha chiesto e spero che sia d'aiuto anche ad altri con questo vi saluto e mi raccomando iscrivetevi al mio canale commentate e condividete ciao al prossimo video